Soddisfazione nel mondo del patinaggio artistico italiano, le ragazze venete dello Stars Group di Padova hanno conquistato il secondo posto ai campionati nazionali, aggiudicandosi il diritto a partecipare ai mondiali di Taiwan il prossimo novembre. Diciamo che non ce l'aspettavamo, è stata un'emozione enorme che si ripeterà speriamo e speriamo di arrivare tanto ai campionati mondiali sui primi posti. Le 24 atlete scese in pista si sono presentate con una coreografia ispirata alla nota artista veneta Rabarama. Paola Epifani in arte Rabarama e noi in particolare rappresentiamo una sua tipica scultura, quella a puzzle, con un particolare significato. Il significato sono i rapporti tra le persone che si possono creare e anche la propria personalità che ha mille incastri proprio come un puzzle che non rappresenta altro che il nostro DNA. Le ragazze sono alla ricerca di uno sponsor che rappresenti la squadra italiana nel mondo. Noi cerchiamo uno sponsor che ci finanzi un po' per andare a Taipei perché è un viaggetto abbastanza lungo e speriamo che qualcuno ci aiuti perché la federazione non ci dà niente e quindi speriamo un po' nell'aiuto delle persone individuali, delle imprese individuali. Abbiamo due canali di sponsorizzazione, uno con un codice IBAN per cui basta semplicemente contattare la squadra e un altro invece è un tipo di crowd financing. Chiunque voglia donare anche semplicemente un euro o più può farlo tramite internet, in particolare tramite un sito che è www.capipal.com. 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 www.capipal.com.